Ma vedi, io d'astrino, quel soldato tra quanto abbia cercato, chi lo conosce, il tutto il regimento, io dubito. Eh, lo spedgo, che buonità, scontento che dal fronte a Tavila è stato qui spedito quel signore ad esplorare la tossina. E dove fai? Nemmeno in casa propria, sicuri si può sovare, ma io... private, eh, che di là? Vanno, non sentite, in casa io sono, non prendi vuole, aprite. Pagliari C'è un attività Vieni, grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.